La presa di posizione della Presidente della Regione Deborah Seracchiani sulla necessità di procedere a rimpatri di migranti che dovessero delinquere incontra l'apprezzamento dell'esponente di Forza Italia Alberto Polacco, ospite stamane nella prima parte di Sveglia Trieste. Dopo aver ricordato i recenti episodi di violenza e moleste ad opera dei richiedenti asilo, il consigliere Azzurro ha sottolineato l'atteggiamento del Partito Democratico in Consiglio Comunale, i cui esponenti hanno etichettato i forzisti di essere divisionari quando denunciavano situazioni a rischio in termini di pubblica sicurezza. Noi abbiamo chiesto, speriamo che la governatrice Seracchiani si faccia anche lei portatrice nei confronti della Prefettura, di introdurre una vigilanza dei militari anche nella nostra città, secondo me anche vedere delle persone in divisa che affiancano le forze dell'ordine in questo momento storico, parliamo di questo momento storico, da un senso ulteriore di sicurezza in più, oltre a sgravare, e questa è la denuncia che è stata fatta più volte dagli operatori di sicurezza, il personale che in questo momento è veramente sotto pressione. Ci fa piacere questa risposta che però viene data tardi, quando la situazione ormai è molto complicata, ma alla quale bisogna porre un rimedio. Lo dica chiaramente al Ministro degli Interni, si faccia finalmente da Roma un'opera di chiarificazione su questo problema, si avvii la politica di rimpatri nei confronti delle persone che non hanno titoli a stare in Italia, perché molto spesso si è confusa lo Stato, la qualifica di richiedente asilo con persone che possono stare in Italia per tutto il tempo che vuole, non è così. Allora non si capisce perché, mi si permetta, una persona che non può invocare questo tipo di diritto, ma vuole venire in Italia, deve sottoporsi a tutta una serie di trafile, persone che hanno già un datore di lavoro, che avranno i soldi per fronteggiare anche un'assistenza ospedaliere, a queste persone viene negata il diritto. Ma dall'altra parte invece abbiamo un'entrata in qualche modo incontrollata che genera dei problemi. Ci fa piacere che la Seracchiani se ne renda conto, però dalle parole si passino ai fatti.